Questo è stato veramente il capitolo dove io ho detto la mia tesi sul capitalismo e cristianesimo e con questa frase stupenda di De Martino, che basterebbe solo questa per essere contenti, questa frase è di una bellezza tale, che infatti alcuni la definiscono una delle frasi più belle della seconda metà del Novecento, in antropologia. E poi qui per capire tutto bisognerebbe leggere il libro, morte e il pianto. Per dirvi, il mestolo De Martino è quello che ha fatto conoscere al mondo tutti questi riti, cioè di come la funzione che svolgeva il lutto, che è una cosa molto bella, qual è l'esempio una principale? Che il lutto serve per evitare che il vivo si uccida col morto. Perché la vera tentazione quando muore una persona molto amata è che tu muori con lui o con lei e quindi il lutto serve per evitare questo.